Mio nonno diceva sempre Non temere chi ti odia, ma stai sempre attento a chi finge di amarti. Quando realizzeranno di non poterti eguagliare né superare, parleranno male di te e cercheranno di renderti la vita difficile. Questa è l'invidia. Ciò che gli altri pensano di te non è un tuo problema. Fai sempre attenzione a chi parli, di chi parli e a cosa dici. Evita le persone curiose che vogliono sapere tutto, perché chi ha orecchie grandi ha anche la bocca larga. Non confrontare la tua vita con quella degli altri. Non conosci il loro percorso. Tieniti alla larga dalle persone che non riconoscono mai i propri errori e che cercheranno di farti credere che tu sbagli.